Tragico incidente all'ingresso della galleria Montenegrone, scontro tra un'auto e un mezzo pesante, muore una donna di Albino. Novità in arrivo per alcune comunità della diocesi di Bergamo, i cambiamenti nel nostro territorio a Villadogna, Pradalunga e Bossico. Ottava e ultima tappa della Corrinei Borghi a Cerete Alto vincono Vivienne Bonzi e Saber Zinubi, assegnati anche i punti decisivi per le classifiche generali del circuito. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Purtroppo iniziamo con una tragica notizia. Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la statale 671 della Valle Seriana. Ha perso la vita una donna di 54 anni, Simona Gusmini di Albino. Lo scontro si è verificato in territorio di Torre De Roveri poco prima dell'ingresso alla galleria Montenegrone nella direzione da Bergamo verso Clusone. L'incidente ha coinvolto un'auto guidata dalla donna e un mezzo pesante condotto da un uomo di 51 anni. Violento l'impatto avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si è anche ribaltato su un fianco. Sono scattati soccorsi e sul posto sono arrivate l'automedica e un'ambulanza oltre ai vigili del fuoco. Non è stato purtroppo possibile salvare la vita alla donna. L'autista del camion è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Per consentire le operazioni di soccorso la Montenegrone è stata chiusa, pesanti le ripercussioni sul traffico. Una donna di 43 anni è rimasta ferita in un incidente stradale. Accaduto questa mattina al passo della Presolana con la sua auto è finita contro il cassone di un camion. L'incidente si è verificato poco prima delle 7.30 in territorio di Castione all'inizio della discesa verso Colere. L'auto della donna ha impattato violentemente per cause imprecisate contro la parte posteriore del camion finendo in parte sotto al cassone. Fortunatamente la 43enne non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del corpo volontario Presolana. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Piario. Avrebbe riportato solo alcune escoriazioni. Il maltempo oggi ha colpito in modo particolarmente violento la Lombardia. In Val Seriana il temporale che si è abbattuto in mattinata ha causato disagi alla viabilità in modo particolare lungo la statale della Val Seriana dove in alcuni tratti è caduta anche la Grandine. Allagamenti in Val Gandino dove in alcuni punti l'acqua si è riversata in strada creando problemi alla circolazione. Strada allagata anche nell'Alto Sebino tra Riva di Solto e Castro. Infine ci sono state anche delle difficoltà per alcune imbarcazioni sul lago di Sio ma fortunatamente tutto poi si è risolto. Cambiamo argomento. Chiudiamo con la cronaca. Voltiamo pagina. Novità in arrivo per alcune parrocchie della diocesi di Bergamo. Il vescovo Francesco Beschi ha infatti deciso alcuni avvicendamenti. Sentiamo. Cambiamenti in arrivo per alcune parrocchie del nostro territorio. Il vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha infatti nominato nuovi parroci o amministratori parrocchiali. Novità anzitutto in Alta Valle Seriana dove cambia la guida delle parrocchie di Villa Donia, Ogna e Nasolino. L'attuale parroco Don Riccardo Bigoni, 49 anni, diventerà parroco di Prada Lunga e Cornale. A Villa Donia, Nasolino e Ogna arriverà come amministratore parrocchiale Don Antonio Locatelli che continuerà anche ad essere parroco di Ardesi, Obani e Valcanale. Novità anche a Bossico dove l'attuale amministratore parrocchiale Don Danilo Superchi, 48 anni, diventerà parroco. La diocesi ha comunicato anche altre designazioni che riguardano vicari e collaboratori parrocchiali. Don Mario Giuseppe Zanchi, attuale parroco di Zanica, sarà vicario interparrocchiale di Zogno, Amria, Indenna, Grumelo de Zanchi e Sommendenna. Don Carlo Tarantini, finora collaboratore pastorale a Gorle, sarà collaboratore pastorale di Gavarno Vescovado e di San Giovanni nei Boschi. Cambiamo decisamente argomento. Tanta gente ha scelto di svegliarsi all'alba ieri per partecipare alla Sagra degli Uccelli, quest'anno campionato italiano a Casnigo. L'area attorno al Santuario della Trinità si è riempita del canto di diverse specie. Siamo andati a vedere. Ventesima Sagra degli Uccelli a Casnigo. Quanti esemplari sono stati portati qui oggi al Santuario della Trinità? Quest'oggi al Santuario ci sono esposti 420 esemplari, suddivisi in 10 categorie. Le categorie sono due in più perché essendo campionato italiano ci sono più categorie rispetto alle fiere normali. Comunque ci sono 110 tordi bottacci, 32 merli, 47 tordi sasselli, 30 lodole, 44 fringuelli, 45 luccherini, 43 cardellini, 38 prispoloni, 15 passeri e 25 pepole. È un numero che non abbiamo mai raggiunto. Abbiamo fatto due volte il campionato regionale ma al massimo eravamo arrivati a 350 gabbie esposte. Quest'anno, visto che ci sono varie regioni che hanno partecipato, sono alcune gabbie in più. Abbiamo parlato di campionato italiano. Come si svolge la gara? In poche parole, la settimana antecedente si preparano tutte le postazioni per le varie categorie. E dopo al mattino arrivano gli espositori. Quest'anno, fra l'altro, sono stati i posti, sono stati assegnati per sorteggio. Al mattino arrivano gli espositori e spongono i loro richiami. E poi c'è una giuria che passa a giudicare. Fanno due o tre passaggi durante la mattinata. E poi giudicano gli esemplari migliori come canto. A Casnigo la Sagra degli Uccelli raggiunge la ventesima edizione. Un traguardo importante, anche l'occasione per rivolgersi indietro. Come è iniziata questa storia, questo percorso? Allora, questo percorso è iniziato 22 anni fa nella comunità Magda a Gandino. È partita lì la fiera e era stata organizzata dai commercianti insieme al nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato, Astori Giuliano. E per due anni l'abbiamo fatta lì. Poi per lo spazio che era un po' ridotto e così abbiamo chiesto al Don Giuseppe, che anche lui purtroppo ci ha lasciato con il Covid, il terzo anno, se potevamo farla qui e ci ha dato benestare per poterla svolgere. E da allora abbiamo sempre svolta, tranne il 2020-2021, anni del Covid, che ovviamente non si poteva fare assembramenti, non si poteva fare queste sagre, queste manifestazioni. Dunque siamo alla ventesima edizione, quest'anno abbiamo fatto due volte in questi vent'anni il campionato regionale, quest'anno è campionato italiano. Dunque abbiamo qui gente, espositori che arrivano dal Friuli, Trentino, Veneto, Lombardia e Toscana. Chi organizza questo appuntamento? Allora, è organizzato dalle sezioni dell'ANU, dei comuni di Casnigo, Cazzano-Sant'Andrea, Gandino, Leffe e Vertova. Ricordiamo anche che cos'è l'ANU. L'ANU è l'Associazione Nazionale Uccellatori Uccellinai dei Migratoristi Italiani, nata, costituitasi nel 1958, che era uscita dalla Federcaccia, in quanto quegli anni si voleva tutelare i migratoristi e in quel contesto non venivano tutelati, allora si è staccata dall'Associazione Maggioritaria. Atmosfere suggestive ieri pomeriggio al Roccolo Zuccone, nella zona di San Lucio, a Clusone, il musicista Gabriele Lattuada, originario della Cittadina, ha scelto questo luogo incantato per la presentazione del suo nuovo album, Spiragli, che segue il suo primo disco, Grain. Lo abbiamo intervistato. Tuoi progetti in solo, progetti che sono sfociati in due album, il primo Grain e poi Spiragli. Inizierei naturalmente dal primo per poi concentrarci sul secondo. Ecco, com'è nato Grain? Perché hai anche il desiderio di fare un disco a un certo punto del tuo percorso artistico? È una domanda molto complessa, è molto difficile, però diciamo che è nata l'esigenza di cimentarmi, di confrontarmi con qualcosa che non fosse scritto. Sono un professionista di musica classica per lo più e quando sei in orchestra o nei teatri sei costretto a suonare solo quello che ti viene messo davanti su un foglio, che è affascinante, che è bellissimo, ma a mio avviso è solo una piccola parte di quello che può significare essere un musicista. E anche per sentirmi libero, per sentirmi da lì il mio nome d'arte, il libero percussionista, perché proprio ho l'esigenza di sentirmi libero di sperimentare, di creare cose, semplicemente partendo da un'idea quasi di gioco. E così è nato Grain. Correggimi se sbaglio, Spiragli nasce praticamente da Grain. Spiragli è la continuazione di Grain. Infatti per molti questi due album sono completamente l'opposto, ma per me sono nient'altro che due piccole parti del mio percorso musicale. Uno completa l'altro e ce ne saranno altri che ancora non ci sono, ci sono delle basi ma ancora non esistono. Però dove finisce Grain inizia Spiragli. E oggi nel concerto presento proprio questo passaggio da un disco all'altro. Raccontaci un po' che cosa suona dentro questi due dischi, soprattutto nel secondo. Gli strumenti, allora, c'è il vibrafono, che è un po' come se fosse la mia voce, che fa da caronte in queste vicende musicali. Non c'è storia, non c'è titolo, non c'è voce, ma a me piace pensare come se fosse... Io ho un'idea, un'immaginazione di una storia, perché ci sono dei titoli che sono un racconto, un'avventura, una ninna nanna, sospeso, dei titoli che fanno... che lasciano l'immaginazione di pensare a delle storie. A me piace che ogni persona del pubblico, chiunque ascolta, possa crearsi la propria storia. Per presentare Spiragli, Spiragli, hai scelto il luogo in cui ci troviamo, un luogo bellissimo, suggestivo, come il roccolo di Giannino, così come è conosciuto a Clusone, e non solo a Clusone, perché è proprio qui. Allora, diciamo che questo concerto doveva essere fatto dieci anni fa, o meglio, non questa musica qua, perché dieci anni fa questa musica non esisteva, però è stato Giannino, il primo, dieci anni fa, a chiedermi di fare un concerto in solo, e lo voleva fare qui. Pioveva, abbiamo deciso purtroppo di non farlo qua, l'abbiamo fatto in Sant'Anna, è stato nel corte Sant'Anna a Clusone, è stato comunque un concerto molto bello, ma mi è sempre mancato il fatto di portarlo qua. Qui perché? Perché l'idea stessa del roccolo inserito nella montagna, con le sculture di legno, per chi non lo conoscesse, va conosciuto, che non rimarranno in eterno queste sculture. quindi rappresenta un po' la fotografia di come io intendo la musica. Questi brani che faccio, queste esplorazioni che faccio, sono nel momento presente. Tra un po' non avranno probabilmente più senso. È vero che rimane una traccia, perché rimane il disco, ma anche le sculture sono state fatte fotografando un momento, una sensazione. A un certo punto questo legno cederà un po' per le formiche, un po' per il tempo, quindi mi piace questa cosa in divenire e questo è un posto dove penso qualsiasi musicista vorrebbe suonare. Ottava e ultima tappa della Corri nei Borghi. A Cerete Alto, l'appuntamento organizzato dall'USTC Cerete ha concluso la 17esima edizione del circuito, scattata il 5 luglio a Rovetta e poi proseguita a Vertova, Clusone, Gromo, Albino, Ardesio e Parle. Si è concluso sabato sera a Cerete Alto, con l'ottava e ultima tappa, il circuito Corri nei Borghi. Nelle varie gare erano in palio gli ultimi punti per le classifiche finali del circuito. Nella corsa non competitiva i primi a tagliare il traguardo sono stati Matteo Gualdi e Rita Lili a quadri. Le gare degli atleti tezzerati sono state caratterizzate da un alto livello tecnico. Tra le donne si è rinnovata la sfida tra la bergamasca Vivian Bonzi e la bresciana Sara Bottarelli. Anche questa volta Vivian Bonzi della Ricastello Radici Gruppe è riuscita a staccare l'avversaria completando il percorso in 13 minuti e 44 secondi con un vantaggio di 6 secondi su Sara Bottarelli. Terzo posto per l'altra bergamasca Beatrice Bianchi anche lei della Ricastello. Tra le prime dieci si sono distinte anche Anna Marelli del Gav Vertova, quarta, e la ceretese Irene Faccanoni del Pula Alta Valle Seriana giunta quinta. Nella gara maschile il tunisino Saber Zinubi dell'Atletica Valle Camonica ha preso subito la testa del gruppetto dei migliori mantenendo un ritmo elevato per tutta la gara. Zinubi, vincitore di alcune delle tappe precedenti, ha chiuso la gara in 15 minuti e 56 precedendo di 10 secondi il brembano Manuel Toni e di 19 secondi il clusonese Stefano Benzoni dell'Atletica Valle Brembana. Quarto posto per il rovettese Jacopo Brasi della Ricastello. Nelle classifiche finali del circuito Vivian Bonzi ha prevalso tra le donne grazie a 6 vittorie su 6 gare disputate. Tra gli uomini primo posto per Manuel Toni che pur non avendo vinto nessuna delle prove ha prevalso nella classifica a punti grazie ad una serie di ottimi piazzamenti. Si conclude anche questo circuito nella Corri dei Borghi con Cerete che ti vede ancora protagonista. Come è andata questa gara? No, la gara è andata molto bene sono contenta del risultato sono contenta perché confrontarsi con Sara che è un atleta di livello è sempre bello è sempre piacevole quindi la gara diventa insomma convolgente quindi sono contentissima e è bello avere avversarie degne come lei quindi sono contenta ma è un'atleta fortissima che temo tutti i giorni sicuramente quindi il circuito è andato benissimo speriamo che anche le prossime gare vadano uguali a queste diciamo. Dopo Parre il successo anche qui a Cerete in questa ultima tappa della Corri dei Borghi come è andata anche questa competizione? In realtà è andata bene cioè mi aspettavo anche di vincere era una bella gara mi è piaciuto tanto anche le altre gare abbiamo vinto ancora e spero che ci sarà anche nei prossimi anni con un altro livello e spero che vi è piaciuto il bilancio è più che positivo siamo giunti davvero al termine di questa edizione della Corri dei Borghi otto tampe quest'anno alle tue spalle tanti tantissimi volontari che abbiamo visto qui a Cerete insomma non si poteva chiedere di me direi proprio di sì chiudiamo ancora qui a Cerete è doveroso essere qui a ricordo del nostro caro Danilo Fiorina con tutte le premiazioni finali è andata veramente bene sono otto tappe ben partecipate siamo attorno con i bambini non competitive assoluta sui 300 e più con picchi anche oltre 400 persone ma soprattutto rimarca ancora la presenza della gente a vedere questi ragazzi che corrono che vengono in strada bambinetti signore appassionati villeggianti a tifare a sostenere questo straordinario gruppo di atleti che ogni settimana di venerdì o di sabato per le finali scende in strada a fare la loro garrettina la cosa bella è che anche gli atleti professionisti o comunque testerati fidel non vogliono mai mancare a questo appuntamento chi lo considera un allenamento chi invece lo prende davvero sul serio perché sono nate sfide e rivalità sempre in amici si è vero il livello di certo non manca nelle nostre competitive e mi chiedo proprio come facciano a far coincidere queste gare qua che per loro chiaramente sono di preparazione con invece le vere gare che devono affrontare da professionisti però veramente sono venuti a trovarci in tanti c'è chi ha fatto addirittura 5 gare su 8 di questi straordinari campioni gente che viene da lontano dal bresciano dal milanese insomma non ci mancano dalla loro presenza tutti gli anni siamo alla fine di agosto ma per tanti è ancora tempo di vacanze e proprio a questo tema è dedicata la puntata del sasso nello stagno che vedremo domani sera vediamo adesso invece l'anteprima domani sera l'appuntamento che non può mai mancare con il nostro sasso nello stagno argomento della settimana le vacanze siamo andati a caccia questa settimana di vacanzieri per capire come trascorno il loro periodo appunto di relax in montagna ci si dedica al relax all'ozzi più totale oppure in movimento sempre all'insegno dell'attività fisica gli esperti dicono che bisognerebbe rilassarsi riescono a farlo gli italiani questa è la domanda della settimana tutte le interviste domani sera adesso una in anteprima uno sportivo una volta lo sportivo buongiorno mi dica cosa fai in vacanza? sono la casa qua vengo qua ogni tanto settimana qua lo facciamo sempre a Ferragosti e la mia compagna ma si rilassa? si siamo a Canoca sul lago andiamo a farci un bel giro sulla Canoca sul lago di Iseo ferma e poi camminiamo un po' sulle montagne sbagliatissimo non fare niente? è il nuovo trend diritto all'ozio allora sono già in pensione a due anni sono già a oziare almeno quando sono qua spero di non oziare quindi in vacanza vuole darsi da farle cosa devo fare? gli dico di no a mia compagna è lei però vabbè comunque giriamo ma stiamo passeggiando qua nei negozi dov'è lei? nei negozi io dove sono? fuori ha portato le borse? no spero di trovare una sedia per sedermi dentro non ce n'è a meno un po' di ozzo in attesa l'ozio va bene ci vuole l'ozio però sono sempre a casa a oziare ogni tanto un po' di movimento siamo ormai alla fine del telegiornale quindi programmi di Antenna 2 e questa sera alle 20 e 10 torna dopo la pausa estiva l'appuntamento con tempi supplementari e naturalmente con il calcio quindi tornerà Arnaldo Guadagni in conduzione con i suoi ospiti per questa prima puntata della stagione della nostra trasmissione dedicata al nostro calcio poi alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale alle 23 e 5 un concerto per Don Giovanni Bertocchi del 2014 a mezzanotte e mezza la terza edizione del Tg infine l'Almanacco domani è martedì 27 agosto il sole sorge alle 6 e 31 e tramonta alle 20 e 13 la luna all'ultimo quarto sorge alle 23 e 25 tramonta domani alle 16 e 23 la chiesa ricorda Santa Monica e per noi è tutto grazie per l'attenzione e buona serata grazie a tutti